E' il Colosso Prada a fare da apripista con una iniziativa in favore dei propri dipendenti che andrà ad aiutarli sul fronte del caro Bollette. Credo che è una delle prime iniziative che sono state fatte da parte di un'azienda nei confronti dei propri dipendenti per sostenere loro e le famiglie da questa situazione che sinceramente probabilmente nessuno pensava che continuasse in modo così grave dal Covid prima alla guerra oggi. Quindi l'azienda per prima cosa ha elargito nel mese di luglio una tantum ai propri dipendenti che potranno essere spese nella piattaforma che hanno Prada Walfair gestita da ONN dove già oggi lì il dipendente comunque può avere dei servizi che gli vengono erogati e quindi spendere quella retribuzione lì in retta asilo nido, spese universitarie, tutto quello riguarda la salute ma anche quello che può essere lo svago dal cinema ma anche alle cose più utili, la benzina e ticket. In questi giorni viene predisposta questa piattaforma e verrà introdotta anche la possibilità del pagamento delle bollette che probabilmente si ritradurrà in un ulteriore premio che l'azienda sta cercando di capire come attuarlo sul risparmio energetico da parte di dipendenti all'interno dell'azienda. Questo è il panorama di un'azienda grande, importante, è un nome davvero che incima tutte le classifiche. Il resto del settore come va? Allora, il resto del settore devo dire che da quello che ci ritorna da parte di tutte le aziende, non solo però del settore della moda, è che nel continente dell'America e dell'Asia dove non sono influite né sulla questione della guerra né sulla questione quindi del costo dell'energia, stanno andando bene e c'è molta richiesta di mercato. Non a caso se si va a vedere i bilanci delle aziende che esportano, le cose stanno andando bene. L'Europa ha risposto nel primo semestre nel settore comunque della moda bene, addirittura ha avuto degli incrementi a doppie cifre. Ora, logicamente, la parte più difficile è quest'inverno ma le preoccupazioni che oggi hanno le aziende, diciamo non quelle energivore, che quindi hanno la possibilità di continuare a lavorare con dei costi alzati, però comunque continuano, è che i propri dipendenti possano continuare a lavorare nella tranquillità e che non gli si fermi una produzione per problemi non dovuti a loro perché ci sarà un inverno dove molte famiglie potrebbero entrare in difficoltà.